Al quartiere fieristico della Baltera di Riva del Garda si è conclusa la doppia esposizione canina andata in scena a questo fine settimana organizzata dal gruppo cinofilo trentino delegazione ENCI in collaborazione con il circolo cinofilo roveretano. L'evento ha visto la partecipazione di 1100 cani in rappresentanza di oltre 150 razze, ognuno con regolare ed invidiabile pedigree. I padiglioni della Baltera sono stati il palcoscenico perfetto per questa due giorni dedicata agli amici a quattro zampe con concorsi ma anche un'area dedicata alle aziende di settore dove accompagnatori e visitatori hanno potuto acquistare accessori e prodotti da guinzagli sino ad oggetti per il tempo libero. La prima delle due giornate è stata dedicata all'esposizione internazionale con partecipanti da tutta Europa ma anche da Stati Uniti e Russia entusiasti sia per l'organizzazione che per la splendida cornice dell'Alto Garda. Ieri invece spazio ai 450 cani in concorso per l'esposizione nazionale culminata nel Best in Show pomeridiano. Ad animare il ring d'onore il gruppo Bovari Svizzeri del Trentino Alto Adige e Suttirol con quattro carretti trainati da Bovari del Bernese con conduttori in costume tipico.